Insieme alla presidenza della Capitale Italiana della Cultura, l'assessorato alla sostenibilità è stata molto orgogliosa di poter organizzare un ciclo di eventi dedicato ai quattro elementi naturali intitolato alla natura vivente della cultura. Per porre il focus ovviamente come assessorato alla sostenibilità, alla crisi climatica e a tutte le politiche che un ente locale come principale attore e protagonista di questa crisi e criticità ambientale generale ritiene appunto che debba essere attenzionato a livello di comunità. E lo abbiamo fatto utilizzando il filo conduttore di scienza e arte. Gli elementi sono quattro, partiamo dal 23 febbraio, quindi venerdì pomeriggio da Villa Caprile alle 17.30 e finiremo a fine maggio, appuntamento importante, il 31 maggio, scelto anche come dato obbligato perché sarà presente in Italia Vandana Shiva e sarà la nostra principale testimonial per la difesa, per la lotta sempre al cambiamento climatico e a difesa dei diritti umani. Gli elementi faranno un percorso molto particolare perché ogni focus appunto dovrà attenzionare un argomento e in particolare vorrei segnalare nell'ambito dell'elemento acqua proprio la presentazione del libro bianco e del verde come filo conduttore che ci ha portato per esempio ad essere la prima città in Italia a siglare il protocollo d'intesa per il Parco della Salute perché noi vogliamo significare che l'attenzione all'ambiente, al verde, all'intercontensione tra tutto il vivente deve farci comprendere che dobbiamo valorizzare i servizi che nell'ambito degli enti locali noi abbiamo con il nostro patrimonio naturale. Il Parco della Salute avrà questa principale funzione. Lo stesso motivo sarà la base dell'evento dell'elemento fuoco dove sigleremo un patto di monasteri perché lì vorremmo proprio unire la cura del creato, la visione del creato nell'interconnessione, nella focalizzazione della visione biocentrica dell'ambiente appunto con la vita monastica, con la storia dei monasteri e con il loro pensiero legato alla spiritualità.